buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a forme capitolo 3 stagione 3 settimana numero 4 incarichi settimanali distruggi strutture con un fucile blaster e 11 quindi cerchiamo in un avamposto o luogo di atterraggio potenziale di Darth Vader e superiamo 1-2 blaster per completare velocemente questo incarico veramente veramente semplice da completare quindi ripeteremo su ogni blaster che li facciamo prima nel video precedente vi ho detto che era uscito il quarto modo che potreste farlo quindi a pinza ma in realtà ogni video non ho iscritto quindi in realtà non ho 3 quindi ora nei prossimi video subiterò un assoluto mancante così potete provare a rispettare essere più veloci per rispettare questa skin in modo gratuito vi ricordo che vi iscrivetevi al canale ma è importante attivare la campanella luna perché non è sempre aggiornato su tutti i video che ho fatto link in descrizione trovate qui il mio instagram dove anche lì potrei presentare qualche colice per rispettare qualche oggetto decorativo quindi rimanete specializzati per questo video è tutto voi ci vediamo al prossimo ciao